Ciao e bentornati su Ciacchiazione, io sono Valerio Novara. Allora, oggi vi volevo parlare della serie di cui si sta molto chiacchierando su Netflix, che è Vatican Girl, la storia di Emanuele Orlandi, è una vera e propria inchiesta che ripercorre in quattro puntate tutto quello che sappiamo fino ad oggi, da quel 22 giugno del 1983, anno e giorno della scomparsa di questa ragazzina di 15 anni, di questa cittadina del Vaticano, e la miniserie forse è la più accurata che ripercorre la storia, le inchieste, le novità che ci sono state dietro la sparizione della ragazza negli anni fino ad arrivare ai giorni nostri e tutte le persone che sono state coinvolte o apparentemente coinvolte in questa brutta storia di cronaca italiana che purtroppo ancora non è arrivata ad una conclusione e di cui non si riesce a trovare, insomma, la luce in fondo al tunnel. A me è piaciuta molto, dico subito che la serie mi è piaciuta molto, consiglio a tutti di vederla anche perché ci sono tante cose che sicuramente avrete sentito, ma tante altre non le ricordavo e una di queste non tanto il giorno della scomparsa, insomma, quel pomeriggio a fuso del 22 giugno dell'83, io non ero ancora nato perché sono dell'88, però comunque è una storia che conoscevamo tutti a grandi linee e che per anni, insomma, abbiamo comunque sentito per sentito dire c'era di mezzo questa cosa, che c'era di mezzo la banda della Magliana e che c'era di mezzo sicuramente il Vaticano, sono tutte cose che poi vengono messe insieme nella serie in cui c'è anche il bravissimo giornalista Andrea Purgatori di La Sette che racconta, insomma, che all'epoca lui lavorava per il Corriere della Sera e che fa un po' il punto della situazione su tutta l'inchiesta che riguarda questa ragazza. Non starò qui a dirvi come sono andati i fatti perché quelli ve li andate sicuramente a leggere su Wikipedia, ma vorrei un attimo fermarmi su quello che mi ha trasmesso e che mi ha fatto capire, forse mi ha fatto capire la verità, non lo so, mi ha fatto capire tanto questa serie perché è fatta davvero bene, ma sia come sono fatte le interviste, la fotografia, come è stata montata, ho apprezzato tantissimo e veramente servirebbero prodotti, più prodotti di questo tipo e Netflix è bravissimo a fare i documentari, soprattutto i documentari, soprattutto investigativi, perché poi l'abbiamo visto, insomma, ne ha fatti uscire parecchi ultimamente che sono davvero all'altezza della piattaforma. Quello che sapevamo era che questa ragazza, un giorno che era andata a lezione, lei suonava il flauto, in questa specie di scuola di musica, in questa specie di conservatorio che si trova a Roma, questo pomeriggio del 22 giugno dell'83 è sparita e non è più tornata a casa. Quello che mi ha emozionato è che il fratello e la famiglia in generale, ma il fratello Pietro Orlandi, sono quasi 40 anni che cerca di arrivare a una soluzione, insomma, di risolvere questo mistero e quello che ti lascia interdetto è che ci sono state tantissime persone che si sono fatte avanti dicendo mezze verità, dicendo anche balle, come quel tizio che pochi anni fa, insomma, ha fatto ritrovare il flauto e che sosteneva di essere il rapitore, colui che ha rapito Emanuela, che poi invece, insomma, chiamavano l'americano, poi, insomma, è uscito fuori, che era sparita pure un'altra ragazza un mese prima di Emanuela e questo non lo sapevo, tale Mirella Gregori, io non lo sapevo a maggio, intorno ai primi di maggio dell'83 sparisce questa ragazza italiana, mentre Emanuela era cittadina del Vaticano. Due cose, allora, mi lasciano un po' interdetto. La prima è... ho pensato subito... ok, è una questione di riscatto e quindi di soldi che qualcuno vuole estorcere al Vaticano col fatto che il padre era proprio dipendente del Vaticano e all'inizio pensavo pure che ci fosse di mezzo il padre. Se ne parla forse troppo poco del papà di Emanuela nella serie, forse magari approfondire anche di più questa figura, anche perché, cioè, dipendente del Vaticano, ok, non è un dettaglio da poco, secondo me. Altra cosa che mi è rimasta molto impressa e che conoscevo, ma non a questo livello, è che in mezzo ci fosse la banda della Magliana nella figura del Dandy, Renatino, se ben ricordate, anche il romanzo criminale, insomma, chi ha visto la serie si ricorderà che a un certo punto c'è questa... in una delle ultime puntate della seconda stagione c'è il Dandy che parla al telefono con sto prete e dice tu ricordati i favori che t'ho fatto e quindi me devi fare sta cosa per forza. Che poi alla fine era, insomma, farsi seppellire nella basilica di Santa Pollinari a Roma, cosa stranissima perché poi, voglio dire, un civile seppellito in una basilica perché avrebbe dovuto? Sicuramente c'erano impicci, come diciamo noi a Roma, c'erano tanti impicci tra la banda della Magliana nella figura di Renatino De Peris e il Vaticano. Quello che mi ha fatto capire la serie è che sicuramente la testimonianza più veritiera l'ha fatta proprio Sabrina Minardi, forse l'ultima amante del Dandy, che come ha spiegato le cose, come ha raccontato insomma di aver portato Emanuela nei primi giorni prima a Torbaianica segregata e comunque nascosta in una casa e poi spostata a Monteverde perché all'inizio credo ci fosse l'idea di estorcere qualcosa dal Vaticano portandogli via questa ragazza c'era qualcosa che chi aveva rapito Emanuela voleva in cambio di Emanuela. nella serie esce fuori che le telefonate che arrivano alla famiglia sono di persone che chiedono la liberazione di Ali Ajga l'attentatore di Papa Giovanni Paolo II però questa pista sinceramente non ci credo non ci credo credo più e questa cosa mi ha lasciato molto è agghiacciante questa cosa credo più alla pista che Emanuela avesse visto e avesse assistito a qualcosa che non doveva vedere che significa a un certo punto nella serie poi insomma fanno vedere pure negli anni chi l'ha visto le trasmissioni le persone i giornalisti le dichiarazioni la telefonata di quello che dice se volete sapere la verità andate a vedere appunto chi è sepolto nella basilica di Santa Pollinare e del favore che Renatino fece a questo a questo prete tra l'altro cavolo fa il nome e cognome ma aspettavo anche che si approfondisse la figura di questo prete menzionato nell'audio nella telefonata in cui si collegano la banda della Magliana al Vaticano ma aspettavo forse l'approfondimento chi era quello cioè perché gli doveva un favore la figura che però mi ha lasciato più sorpreso è questa amica d'infanzia di Emanuela che esce fuori a un certo punto nella serie nella quarta puntata e decide di non si fa vedere in viso e decide di raccontare una rivelazione che avrebbe fatto Emanuela una settimana una decina di giorni prima di sparire e cioè che una persona molto vicina al Papa e quindi una persona del Vaticano l'aveva infastidita viene usata la parola infastidita lì ho capito che c'era che la storia quello che voglio dirvi è che la storia è molto più semplice di quello che si può pensare Solidarnosc la Russia KGB la Banca Banco Ambrosiana secondo me stiamo andando troppo oltre la vita è molto più semplice purtroppo che cosa era successo qualcuno aveva non dico molestato ma fatto delle avance sessuali alla ragazza la ragazza sapeva quindi questa cosa ha iniziato a dirlo a qualcuno perché ovviamente c'è stato anche questa dichiarazione con la sua amica e dopo una settimana sparisce la ragazza sapeva una cosa che se fosse venuta fuori della pedofilia nella chiesa ragazzi purtroppo ci sono stati casi come dice anche giustamente nella serie al di fuori del Vaticano ci sono stati diversi casi insomma anche da quando c'è Papa Francesco poi insomma sono venute fuori tantissime cose lui ha provato a rivoluzionare la chiesa anche se secondo me nemmeno il più grande rivoluzionario riuscirebbe a cambiare purtroppo la situazione di omertà che c'è all'interno del Vaticano e lo dico da cattolico purtroppo è un qualcosa che non si estirperà mai da dentro ma è evidente che Emanuele Orlandi è stata fatta sparire perché qualcuno l'aveva infastidita sessualmente che ci stava provando insomma qualcuno di alto grado diciamo nella chiesa e se fosse venuta fuori questa cosa se fosse venuta fuori sarebbe stata una bomba inimmaginabile inimmaginabile perché pensare a qualcuno che possa molestare una minorenna una bambina all'interno del Vaticano come sarebbe stata vista la chiesa nel mondo anche perché voglio dire insomma è la guida spirituale di tutti i cristiani cattolici del mondo per me la verità è questa il favore che è stato chiesto dal Vaticano al Dandi e quindi alla banda della Magliana è tienimi questa ragazza fammela sparire per un po' quindi significa che la chiesa ha chiesto un grosso favore alla banda quindi alla mafia ai criminali italiani e credo che poi la ragazza sia stata ripresa dalla chiesa quindi da qualche figura ecclesiastica sia stata effettivamente mandata fuori perché poi c'è questo documento di questo ostello di Londra anche lì pensavo che se ne parlasse di più anche se evidentemente sono passati degli anni perché c'è questo file venuto fuori con Badilix in cui escono fuori le spese sostenute dal Vaticano per comunque assistere e pensare al vitto all'alloggio agli spostamenti di una ragazza di nome Emanuela Orlandi insomma dagli anni 80 fino al 97 98 e poi c'è questa spesa grossa per trasportare questa persona da Londra a Roma non fai una spesa grossa se la persona non è morta quindi temo che la ragazza sia morta però insomma è che purtroppo a me la cosa che fa più male è che sta povera madre si è vista privare di una figlia a 15 anni e nessuno te li darà mai gli anni e la persona che hai perso insomma quindi è la cosa più agghiacciante la serie attraversa bene questi decenni di cambiamenti anche sociali nella società italiana senza però mai che il Vaticano si sbottoni su questa storia e questa è forse la cosa che mi ha fatto più rabbia il Vaticano non ha rilasciato alcuna dichiarazione nessuno nessuno ha voluto parlare nella serie lo specificano alla fine insomma nemmeno per dare un'altra versione o per dare anche il beneficio del dubbio tutte le strade portano al Vaticano ed è quello che fa più male insomma perché stiamo parlando della vita di una bambina che ha perso i suoi anni e non ha potuto vivere la vita di cui aveva diritto probabilmente dico probabilmente per me è questa la verità perché qualcuno qualcuno all'interno della chiesa l'aveva avvicinata e questa cosa non doveva uscire fuori perché sarebbe stata veramente una bomba incredibile fatemi sapere però voi che idea vi siete fatti quindi perché secondo voi è stata rapita e perché che fine ha fatto insomma questa ragazza e io vi do appuntamento al prossimo video